Salve a tutti, Domenico Giordano della Giordano Brocage Est. Ho appena terminato l'incontro con un importatore. Ha interesse in sughi pronti e condimenti per pasta. Il suo interesse è per il private label. Quindi se sei un produttore di condimenti per pasta e sughi pronti, puoi contattarmi sotto questo video. O se dovessi conoscere qualcuno interessato, ti prego di condividere questo video. Arrivederci, a presto e ricordate che la Russia si sta man mano riprendendo anche per l'importazione. Arrivederci.